La Marea Record, che nei giorni scorsi ha allagato il 75% del suolo cittadino, non ha spaventato i turisti che per il Ponte dei Morti stanno affollando le calli di Venezia. In città si registra un boom di presenze, nonostante il meteo e i disagi negli spostamenti. L'acqua alta, che ha raggiunto la punta massima di 156 cm, ora è tornata a livelli più normali, ma elevati, soprattutto la mattina. A seconda degli orari della Marea si cammina ancora sulle passarelle, i turisti, muniti di stivali di gomma colorati sovrascarpe e impermeabili di plastica per proteggersi dalla pioggia, non rinunciano al fascino di un giro in gondola per scattare qualche fotografia e agli immancabili selfie in piazza San Marco con i piedi a mollo.